Il che significa che ci troviamo nel quadrante alfa, a est... Oh, baby! Baby, si parte! Ehi! Good luck, immagino. Io non mi ricordo. E dai, healer! Betti pronto, maledetto infame. Healer, non farlo. Please. Non farlo, healer. Non lasciarci proprio adesso. Non abbandonarci ora, maledetto schifoso. Oh mio Dio, cosa sta succedendo, Avi? Sento tipo... Poi ho sentito... Comunque buon pomeriggio, Avi. Buon pomeriggio. Hai sentito? Sì, sì, adesso ti sento. Sei bassino, però ti sento. Dai, madonna, sti cazzo di mentor. Esatto. Allora, fuck. Perché ha quitato? Aspetta, mi sono dimenticato il cazzo di healer. Abbiamo? Ok. Ma sì, è easy, è easy. È la seconda fase, il problema. No, Dogino! Oh oh, mi sembra che uno ci muore. Oh oh, è morto anche l'altro healer. Perché? Sono morto. Sì, è proprio suicidato. Poi i arancioni devono correre qua. Eh, che cazzo. Si è suicidato un healer. È impossibile. Ah, poi tank, sì. Eh, è fatto. Eh, perché ero già lì? Va bene, tanto non riuscivo. Avevo appena preso SwiftCast. Vabbò, comunque... Poteva andare peggio, dai. Nel senso... Oh, è malissimo. Ma sì, ma sì. Poteva morire già la prima fase. E mo' ce la famo. I due healer stanno col tank. E i quattro DPS stavano, diciamo, con i quattro DPS. Ma i due healer mi fanno un mugolone. Ma tu puoi parte dei due healer. Lo so, infatti. Ora c'è da core. Vado, vi prendo quella sinistra. Ah, vi ho preso quella a destra. Oh no! Come cazzo ho fatto morire? Ok, questi si riprendono. Ah, bisogna stare qua e poi partire. Ah, no, no, no. Mi era dove... Oh, come fai? Come... Deve sono usciti questi? Eh, non lo so. Voglio stare allontani. Ecco, vai di là dall'altra! Vai all'altra! Ok, ok, l'ha preso l'altro... L'ha preso l'altra, questa volta ha fatto parte. Oh no! Oh no! Sono morto! Sono da lì. Ah, yeah. È andato a te. Mi fai giù. Mi fai giù. Stavo pure tancato. Mi vedo, scotratto. Ah, no, no, sono morto. Ah, no. Sono morto. Non ancora! We can do it! No, no, no. Di midbrake dal finito. È morto. È morto. È morto di midbrake. Ah, non è possibile. Ma non, non è possibile. Ah, è morto di 1. Trustiz. Grande pianto, bravo pianto. Eh, lo so, sono l'unico da giocare. S, è un leech. Cioè, oppure ho usato Living Dead per letteralmente farvi tornare in vita. Ma tu non mi ero anche curato al massimo. Tra l'altro, non c'è un morto più per due. Perché avevo Living Dead, nessuno di voi due healer mi ha curato. Ma in Living Dead è stupido non usarlo. Ma dovevi curare me al massimo, mi mancava tipo 6.000 HP, avevate due healer e dormivate in traccia. Ma fuck Living Dead. E poi dillo quando usi di... oh shit. Ma si vede l'icona. Ah, qualcuno. Ma che è Living Dead? Non la conosco l'icona di Living Dead, io. E' letteralmente una tradizionale. Ma come si dice in italiano? L'essidra, eh. Cos'ha una plessidra? Non è che l'essidra, io lo so. Voglio, non lo so. Se non lo sai ti le porti. Allora riportami perché non... Ma non ha pianto oggi mi stasso le palle, è tosco. Ma non ha pianto, sei troppo furioso oggi. Ma stiamo facendo sentare il look a fare l'acqua con quel tryout. Ma non pensare, non pensare al coso. Pensa a vincere. Ma quell'atteggiamento ha DPS, però. Sta sul cazzo DPS. Pianco, sei sempre tossico. Quello è vero. È vero però, eh. Ci abbiamo sentito poche volte, ma ogni volta è ripeggio di Faribor. Taffa. Ma abbiamo maggior ragione che va a fare il mentor, però. E' questo. Oh, là. Quindi Luca sei per Sofia Extreme. Luca, ci sei per Sofia Extreme. Però sappi che pianto furioso, eh. Sì, 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 se l'ha, madonna. Mons? Ah, vabbè, ti spiego le meccaniche poi. Giorgio, quando abbiamo no debuffs, cosa vuoi prendere una parte e un'altra? Per le tue, voglio dire. Devi fare questo. Vabbè, ma non è quello che avete fatto fino adesso. Ah, ok. Perché sì, infatti, che prendevo sempre... Eh, però immagino che lui dica di deciderla prima. Eh, no, ok. Poi prenderà le right. Ah, we'll take the right, if that's okay, then. Anche se non so che parla di polizia. Ah, no! Zero. Ok, oh, finora tutto bene. Fog. Oh, no, l'altro healer. Oh, no, il mentor healer. No, no, perché? E si era ficcato dalla parte sbagliata. Mi raccomando un po' correre, eccolo. Ah! Dai! Oh! Ok. Vabbè, sarà. Sì. No, non devi andare verso mai. Perché se loro vanno i lati, tu stai lì a centro. Ok, hai preso da ogni grafica. Vabbè, ma c'erano le esplosioni. Oh. Mi raccomando, poi per gli eserciti. Non è? Mi raccomando. Non mi raccomando. Mi raccomando. Ah, non ho Swift Cast. Ah, non ho Swift Cast. Ah, non ho Swift Cast. Oh, no! Oh, ma che ho preso? Quanto cazzo manca a recuperare sto smoothcast di merda Oh, se arriviamo al terzo limit break io lo uso Sì, sì Con otto secondi e resto l'altro healer Oh, oh, oh Oh, ok, saranno i soldati Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ehi, falla, falla ora, falla ora Oh, allora falla il braccio Ah, poi c'è anche sta roba Non sarebbe stata una buona idea Aspetta che fallbraccio e poi premio Ok, move Grazie Sì, sperando che io non rimanga lockato nell'animazione, ecco appunto Forse muoio Bomba Oh, che arma aver vinto stavolta Manz, proprio come la prima volta con questa limit break incredibile Stavvero Oh, io che cazzo sono Easy Boom Mi ci vuole una 20.000 Forse 10 Se vuoi di attendere Oh, non ci metti tanto Tanto dobbiamo aspettare comunque per entrare Cosa? E dico, Luca dice che ci vogliono 20, 10, 20 minuti Ma è quella, è la lama quella stupida Questa qua di Sephir Vabbè la passo io Ma sì che è stupida La taglio adesso questa qua la desinto per i materiali Perché non ti posso craftarla Quindi Congrati Wait, oh, it's only the first It's only the first this one Allora, Luca, noi andiamo Se entri in tempo e non siamo ancora entrati Vabbè ti invito Troppo easy, esatto